Ciao, sono Federico Casani, ho studiato a Parma Ingegneria delle Telecomunicazioni, oggi sono un manager dell'OIT. Perché ho scelto Ingegneria delle Telecomunicazioni? Sicuramente per i contenuti che propone e la qualità dell'insegnamento. Ho sempre pensato che un percorso di studi di questo tipo mi aveva permesso di adattarmi ai cambiamenti del mondo e del mercato di oggi. Affrontare il percorso di studi significa mettersi in discussione e attraverso lo studio sviluppare un'importante conoscenza della materia, non solo contenuti. Portare a termine il percorso di l'area significa anche reagire durante i momenti difficili perché ci saranno. Parliamo quindi di competenze e determinazione, due caratteristiche fondamentali nel mondo del lavoro. Durante il percorso formativo ho acquisito una vasta gamma di competenze, da fisica, matematica, da elettronica, ingegnere del software, dall'automazione, alla sicurezza informatica, da telecomunicazioni e economia. Sono proprio su queste ultime che ho concentrato il mio percorso formativo negli anni. Lavorare in Deloitte è una sfida quotidiana. Il percorso di studi in Ingegneria di Telecomunicazioni presso l'Università degli Studi di Parma è stato chiave. Si spazia dalla sfera tecnica a quella manageriale. Presso il centro M.A. Deloitte affrontiamo il mondo della cyber security a 360 gradi. Dall'analisi del malware alla pianificazione di campagne awareness per gli utenti, dalla simulazione di attacchi cyber nel laboratorio all'application security, dalla stesura di business plan all'applicazione dell'intelligenza artificiale. Tutto questo è un ambiente dinamico, internazionale, inclusivo. Ed è proprio grazie alla capacità acquisita durante il percorso di studi presso l'Università di Parma che sono riuscito ad adattarmi a questo ecosistema piuttosto dinamico. Come per il lavoro e per lo studio vale lo stesso. La chiave è la passione e sono sicuro che il percorso di studi in Ingegneria delle Telecomunicazioni vi appassionerà.